Sia lodato Gesù Cristo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti, fratelli e sorelle, in questa coroncina della Divina Misericordia. Vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offro a te questa preghiera come mia per soddisfare e riparare per i peccatori di questo mondo ingrati davanti al Padre Celeste che sotto il controllo dei demoni e del demonio vogliono la Terza Guerra Mondiale. Perciò ti offro, Padre, questa coroncina tutti i giorni per ringraziarti per il dono della vita. Metto nelle tue mani, in ogni decina, una intenzione particolare e ti chiedo perdono per i miei peccati, per quelli della mia famiglia e di proteggere i miei cari e tutti coloro che vorranno imitare questa preghiera nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore Salvatore, per mezzo del cuore maconato di Maria per chiedere la tua protezione nei tempi duri che stiamo per vivere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia, Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figno e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli del tuo eterno volere. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porto in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, nella tua santa e divina misericordia e divina volontà. Io credo in Dio, Padre Onipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa del cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Bonsio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, sia dalla destra di Dio Padre di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vive e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e che il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Santissima Trinità, metto nelle tue mani questa prima intenzione per tutti i bambini abortiti, anche oggi, per questo gravissimo peccato che la Francia ha contenta di questa legge sull'aborto, ha mostrato in tutto il mondo. Non sanno che il padre punirà tutte le nazioni che hanno messo in pratica questa legge. Metto nelle tue mani, Santissima Trinità, tutti i bambini che anche oggi sono stati abortiti, in modo volontario e involontario, insieme a tutti i bambini che sono morti a causa della malattia, della fame, della guerra, delle catastrofi naturali, dei rapimenti, insieme a tutte le anime del Purgatorio. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, e abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli del tuo eterno volere. Io Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. Lo sangue e l'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sergente di misericordia per noi, confido in te. Santissima Trinità, in questa seconda decina d'amore, metto nelle tue mani tutti i miei fratelli, tutti i tuoi figli, Santissima Trinità, che sulla terra stanno morendo in peccato mortale, con o senza il battesimo. Metto nelle tue mani queste anime che rischiano di andare all'inferno, perché dopo la morte, trovandosi poi nel tuo tribunale eterno, quando tu gli domanderai tu mi ami, loro risponderanno di no, oppure non sapranno cosa rispondere. E la vergogna sarà così immensa e infinita che si getteranno da soli nelle fiamme dell'inferno. Chiedo perdono, Santissima Trinità, per tutte queste anime che ti odiano e che servono l'Anticristo, servono il diavolo, servono il mondo, servono il Dio Donaro, servono la massoneria, metto nelle tue mani i satanisti, i mafiosi, i eretici, i pagani, i falsi profeti e tutti coloro che fanno parte della New Age, tutti coloro che fanno parte del mondo della cartomanzia, dell'esoterismo, tutti coloro che non ti riconoscono, Gesù Cristo, come unico vero figlio di Dio, nostro Salvatore, Salvatore, nostro Signore Salvatore, re dell'universo, creatore di tutte le cose, figlio della Vergine Maria, della Santissima Vergine Maria, Regine Madre della Divina Volontà, Regine Madre di tutto l'universo. Per favore, Signore, salva queste anime che metto nelle tue mani, metto sotto la tua croce, affinché possano salvarsi a causa delle preghiere di tutti coloro che pregano e che pregano per tutti coloro per cui nessuno prega. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo delettissimo figlio e il nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione e abbi misericordia di noi del mondo intero. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli del tuo eterno volere. Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo, domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano, non ti amano. O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. In questa terza decina d'amore, Santissima Trinità, metto nelle tue mani l'angelo della pace, in questo primo segreto che hai voluto attraverso la Vergine Maria e San Michele Arcangelo rivelare all'Uzze di Maria per i nostri tempi, per i nostri giorni, e dove hai annunciato la preparazione dell'angelo della pace, che si mostrerà al mondo pubblicamente dopo l'apparizione pubblica dell'Anticristo, per non confonderlo appunto per l'Anticristo, per questo meraviglioso essere che compirà tanti miracoli e preparerà la strada ai due testimoni che invierai successivamente per combattere l'Anticristo e il nuovo ordine mondiale. Metto nelle tue mani, Santissima Trinità, tutte le regioni angeliche di San Michele Arcangelo, la missione di tutti gli Arcangeli della Vergine Maria, metto nelle tue mani le nostre vite, le nostre famiglie, perché tu possa proteggerle fino all'arrivo dell'angelo della pace insieme ai tuoi testimoni e poi prepararci tutti attraverso i segreti di Međugorje e la seconda venuta di Gesù. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione di nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli del tuo eterno volere. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. In questa quarta decina Santissima Trinità preghiamo per tutti i giovani del mondo che sono lontani da te, Santissima Trinità sono immersi nei piaceri della carne metto nelle tue mani tutti i giovani e tutti i malati che sono in pericolo la causa dell'Anticristo che coinvolgerà e convincerà attraverso la tecnologia attraverso falsi miracoli a impiantare il microchip nel cervello o nel corpo per guarire i malati e per convincere i giovani attraverso l'intelligenza artificiale attraverso la tecnologia che è il mondo giusto da creare insieme a loro Santissima Trinità metto nelle tue mani questa generazione che non ti riconosce che non riconosce nemmeno il diavolo però il diavolo è felice che le persone non credono né nel diavolo né in Dio ma che credono nella New Age questa piaga spaventosa dove ci sono tantissimi dei dove questo universo dove questa New Age promette che tutti siamo Dio e tutti possiamo diventare come Dio creando degli universi metto nelle tue mani Santissima Trinità i giovani e i malati e questa generazione persa come sono perse tutte le vittime della guerra per cui nessuno prega per tutti i morenti in peccato mortale e metto nelle tue mani Santissima Trinità questa decina perché i tuoi piani il tuo amore l'avvertimento i segreti di Medjugorje e i segreti dei vari mistici come quelli di Luzia di Maria di Jacarei di Marilda in Brasile possano essere segreti che undurranno parte del mondo a riconoscerti a salvarsi attraverso il libero arbitrio che è una legge grandissima inviolabile e tu ce l'hai donata appunto nella tua santa e divina volontà affinché noi nella nostra volontà potessimo dire Signore ti amo con la tua santa e divina volontà Eterno Padre io ti offro il corpo il sangue l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio il nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero sia gloria al Padre sia gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli di secoli del tuo eterno volere mio Dio io credo adoro spero e ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano non ti adorano e non ti amano o sangue da qualche scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi confido in te in questa ultima decina Santissima Tranità metto la tua chiesa che non morirà mai sarà ostacolata dall'Anticristo perseguitata infamata derisa i sacerdoti si dovranno rifugiare sotto terra o nelle case dei fedeli per celebrare la Santa Eucaristia nei tempi che verranno metto nelle tue mani signore tutti i sacerdoti della chiesa in particolar modo metto nelle tue mani tutti quei sacerdoti che sono stati condannati per eresia che sono stati scomunicati perché fanno parte delle profezie mariane perché la Madonna in tutte le varie apparizioni del mondo ci ha annunciato che la chiesa sarebbe entrata in più scismi e tu Santissima Trinità come hai detto anche la tua mistica francese Suorpeghe non sei indifferente ai vari scismi che ci sono all'interno della chiesa ci sono tantissime chiese cristiane cattoliche non cattoliche in più rami e poi c'è la cristianità ortodossa che come quella cattolica è divisa in più rami e tutti questi rami sono piccoli scismi che insieme formano lo scisma più grande la divisione e la disobbedienza a te Santissima Trinità il non riconoscimento della Vergine Maria degli angeli degli arcangeli che formano tutto il cielo insieme ai beati e alle anime dei defunti che sono tutti santi e beati in cielo ecco Santissima Trinità metto nelle tue mani questa chiesa dove la massoneria è infiltrata metto nelle tue mani la salvezza di tutti i profeti falsi e veri metto nelle tue mani le nostre famiglie e le famiglie di tutti coloro che ci ascoltano insieme alle loro intenzioni ai loro problemi ai loro sogni insieme alla pace nel mondo Signore ti ringrazio per questo meraviglioso giorno ti ringrazio per questa coroncina ti ringrazio per il dono della vita ti ringrazio e ti amo con la tua santa e divina volontà Eterno Padre io ti offro il corpo e il sangue l'anima e la divinità del tuo direttissimo figlio il nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero sia gloria al Padre sia gloria al Padre e al Figlio come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli del tuo eterno volere mio Dio io credo adoro spero e ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano non ti adorano non ti amano o sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi confido in te Santo Dio Santo forte Santo immortale abbi pieta di noi e del mondo intero Santo Dio Santo forte Santo immortale abbi pieta di noi del mondo intero Santo Dio Santo forte Santo immortale abbi pieta di noi del mondo intero Dio Padre misericordioso, ti hai rivelato il tuo amore nel figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, ti affidiamo oggi i destini dell'universo ed ogni uomo. Chi nati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra e dell'universo sperimentino la tua misericordia affinché in te Dio Uno e Trino trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la tua dolorosa passione e resurrezione del tuo figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Sia lodato Gesù Cristo, nel cuore immacolato di Maria, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, nel cuore immacolato di Maria, nel cuore immacolato di Maria, nel cuore immacolato di Maria.